Musica E' un piacere darvi il benvenuto ad un nuovo appuntamento con l'informazione di ConfCommercio Notizie. E' stata presentata in settimana a Roma, alla sede nazionale della Confederazione, un'analisi dell'Ufficio Studi ConfCommercio su PIL, consumi, forze lavoro, numerosità delle imprese e andamento degli indicatori di povertà assoluta, per capire come è cambiata l'economia delle regioni italiane prima e dopo la crisi e quali sono le prospettive di crescita. Secondo il direttore dell'Ufficio Studi, Mariano Bella, la ripresa economica avviatasi nel 2014 ha coinvolto tutti i territori mostrando spunti di vivacità anche nel mezzogiorno. Tuttavia essa non sembra in grado di tracciare un sentiero di sviluppo atto a determinare un significativo avvicinamento tra le diverse aree del paese. Inoltre, sottolinea il rapporto sul fronte delle aziende, tra il 2009 e il 2017 si è registrato un ridimensionamento del numero di imprese in quasi tutti i settori economici. Gli effetti negativi della crisi vissuta sono stati più pesanti nel nord ovest, in cui opera oltre il 26% della base produttiva del paese. Dal punto di vista dei settori economici, nel periodo in esame, i servizi legati all'attività alberghiera, alla ristorazione e di servizi alle imprese e alle famiglie hanno rappresentato le aree dove l'iniziativa imprenditoriale è stata più intensa e diffusa sul territorio, con effetti positivi in termini di varietà di servizi a disposizione dei consumatori e di opportunità occupazionali. Oltre 50.000 unità è l'incremento dello stock delle imprese attive per quanto riguarda alberghi e pubblici esercizi e di oltre 64.000 unità l'incremento delle imprese che operano nei servizi di mercato. Ma sentiamo, a proposito, il commento del Presidente Nazionale di ConfCommercio, Carlo Sangalli. La ripresa c'è, ma è solo il primo tempo di una partita che è ancora molto lunga da giocare e per vincerla bisogna mettere in campo subito la riduzione delle tasse. Non è questo il momento delle formule, ma della tempestività, della certezza. È il 31 ottobre 2017 la scadenza fissata dal Ministero del Lavoro per presentare le domande di conferimento delle decorazioni di stella al merito del lavoro. L'onorificenza, come da tradizione, viene consegnata il primo maggio di ogni anno in occasione della festa del lavoro. Lo spirito di questa cerimonia è di rendere omaggio a quanti attraverso le loro capacità, la loro fatica e l'ingegno hanno contribuito a migliorare e far progredire la società del lavoro, oltre naturalmente che celebrare il lavoro come valore fondante del Paese secondo i principi della Costituzione. Le proposte che per il Veneto dovranno pervenire non oltre il 31 ottobre 2017 all'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, Campo San Polo 2171, potranno essere presentate dalle aziende, dalle organizzazioni sindacali ed assistenziali o direttamente dai lavoratori. La modulistica è reperibile all'ufficio sindacale dell'Associazione. Entro fine mese scatteranno le sanzioni per chi non si adegua all'obbligotarietà dei pagamenti elettronici tramite POS, che permette al cliente di pagare tramite Bancomat o altra carta in vigore già dal 2015 per negozianti, liberi professionisti e ristoratori. Il problema sono i costi. A due anni dalla disposizione l'osservatorio di SOStarife.it evidenzia come quelli sostenuti dai negozianti siano aumentati notevolmente in particolare le commissioni di oltre il 19% dal 2015. In Italia sono già installati 2 milioni di POS, più che in Francia e in Germania, ha fatto sapere il presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli. E l'ipotesi di multare i negozi e le imprese che non si dotano di questo strumento, cosa che peraltro non è prevista in nessun altro paese europeo, sinceramente ci sembra un atteggiamento persecutorio che non serve certo a favorire la diffusione della moneta elettronica. Confidiamo quindi che ci siano i margini per ripensare un provvedimento del genere. Ai lavoratori del settore terziario, l'ente bilaterale di Vicenza, l'organismo paritetico tra Confcommercio Vicenza e i sindacati Filcams CGL, Fisascat CISL e Wiltux Will, offre un buono di 150 euro come contributo alla frequenza di corsi di formazione. Sentiamo i particolari da Mirca Pellizzaro, dell'Ufficio Sindacale e Legislazione del Lavoro di Confcommercio Vicenza. Il Consiglio dell'ente bilaterale ha deliberato un contributo cosiddetto buono formazione a favore dei lavoratori di 150 euro. Lo scopo è migliorare le competenze dei lavoratori, le conoscenze, le capacità affinché aumentino la loro professionalità. Il corso possono scegliere liberamente dal catalogo corsi di ESAC Formazione. La domanda è una domanda semplice da fare in via telematica attraverso il sito dell'ente bilaterale e il buono viene scontato dal costo del corso. Pertanto, se il corso costa di più di 150 euro, il lavoratore metterà la differenza. Se invece il costo del corso è pari o inferiore, il lavoratore avrà il corso gratuito. Questo è l'ultimo dei sussidi dell'ente bilaterale che è sempre attento a dare risposte concrete sia ai lavoratori che alle aziende. Ricordo i sussidi che sono da anni erogati, i contributi per i rimborsi delle spese scolastiche a favore delle famiglie con i figli per la copertura delle spese a partire dall'iscrizione all'asilo nido, alle scuole materne fino alle scuole superiore. Il contributo a favore delle famiglie con figli disabili, il contributo a copertura dell'assenza per l'assistenza della malattia dei figli fino a tre anni di età, gli interventi per momenti di crisi aziendale, quindi di integrazione al reddito in caso di cassa integrazione. Ricordo anche però i contributi a favore delle aziende, quindi i rimborsi per le visite mediche per la sorveglianza sanitaria, il contributo che diamo per le nuove assunzioni, quindi per favorire l'occupazione, il contributo a sostegno della sicurezza negli ambienti di lavoro, quindi nella redazione dei documenti di valutazione dei rischi. Per qualsiasi informazione e chiarimento, gli uffici sia dell'Associazione che dell'ente bilaterale sono a disposizione dei lavoratori e degli associati. ESAC Formazione Un centro innovativo per costruire professionalità nel settore del terziario, sviluppare cultura del lavoro, trovare nuove idee per affrontare le sfide del cambiamento. Scopri l'ampia offerta di corsi sul sito esacformazione.it o vieni nella nostra sede a Creazzo Vicenza in via Piazzon 40. ESAC Formazione dà energia al tuo futuro. In occasione di Vicenza Oro September, a Vicenza dal 23 al 27 settembre 2017, i ristoratori di Vicenza accoglieranno visitatori ed espositori con speciali menu gold che puntano alla degustazione di prodotti locali e della tradizione culinaria vicentina, riservando proposte speciali a chi presenta il proprio beige e fiera nei ristoranti aderenti all'iniziativa. Per conoscere i locali che partecipano a questa iniziativa, per l'appunto organizzata dai ristoratori Confcommercio Vicenza in collaborazione con Vicenza Oro, basta consultare il sito ristoratoridivicenza.it Ma non è finita qui. Accogliezza gold per tutti i visitatori ed espositori di Vicenza Oro September anche nei negozi di Vicenza. Agli operatori che nei punti vendita aderenti all'iniziativa esibiranno alla cassa il loro beige fiera, verrà applicato uno speciale sconto gold sul totale degli acquisti. I negozi gold sono individuabili dalla locantina Welcome Vicenza Oro esposta in vetrina. Grazie all'iniziativa sindacale di Federcartolai Confcommercio, anche le cartolerie aderenti a Federcartolai possono entrare a far parte del circuito di attività presso cui i docenti potranno utilizzare la propria carta, la carta del docente. cartadeldocente.istruzione.it è l'applicazione web che permette ai docenti di ruolo di spendere per il loro aggiornamento professionale l'importo assegnato di 500 euro per ogni anno scolastico. Potranno acquistare fra l'altro libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema per l'iscrizione a corsi di laurea o master universitari per l'iscrizione a corsi per l'attività di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Per l'iscrizione delle cartolerie interessate e per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero cartadeldocente.istruzione.it Ed ora, la formazione. ESAC Formazione propone dal 27 settembre al 18 ottobre in orario serale il corso sulle tecniche di negoziazione per gestire i trattative con successo e risolvere in modo costruttivo ogni situazione critica. Dal 28 settembre al 19 ottobre quattro incontri serali dedicati al neuromarketing ovvero come entrare nella testa del cliente e vendere in modo efficiente. L'Università del Gusto propone il 27 settembre prossimo il corso dedicato alla pizza in teglia per farcire e cuocere in casa una pizza perfetta. Infine, il 28 settembre lezione della Grill Academy per apprendere i segreti di cuocere un intero menu alla griglia. Ed ora siamo agli appuntamenti di questa settimana. Martedì 19 settembre Consiglio della Delegazione Comunale di Barbarano Vicentino Sabato 23 settembre Apertura Vicenza Oro Settembre 2017 che durerà fino al 27 settembre. E con questo è davvero tutto vi ringraziamo per l'attenzione e con Commercio Notizie ritorno appunto alla prossima settimana. Arrivederci. Grazie a tutti.